Buongiorno, sono Sibia Losacco del marketing operativo di Lundson. Siamo orgogliosi di essere presenti alla terza edizione del Polinovition Day, dove presenteremo i nostri nuovi prodotti, dagli airless con tecnologia microchip alle collezioni skincare con materiali green e packaging per make-up con le ultime tecnologie di decoro. Il film Lundson vi aspetta giovedì 8 novembre presso lo showroom auto Torino di Crema.